musica 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 allora io vorrei dire due poche cose vorrei mandare a fanculo? tutte le persone invidiose e tutte le persone che vengono a me che fanno i libri per 3 euro per 5 euro ma 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 farnitela perché i libri non so farlo perché così si perde la tua compagna e pure i soldi ma 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 vienatemi a fanculo tutto quanto oh